Sabato 27 maggio Tannakano e Mina Shirakawa si daranno battaglia nel main event di Flashing Champions 2023 in un title vs title match che può cambiare la storia della Stardom Signori, konnichiwa, io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale Dunque a Stardom Flashing Champions 2023 Tannakano e Mina Shirakawa si affronteranno in un title vs title match In questo video andremo a ripercorrere la storia di queste due fantastiche lottatrici fino al loro scontro decisivo in quel di sabato 27 maggio Tannakano debutta ufficialmente in Stardom nel 2017 dapprima come phase per poi compiere un turn-in poco tempo dopo per allearsi ad Oedo Tai Qualche mese più tardi la Nakano a seguito del risultato di un match tra Queen Quest e Oedo Tai viene buttata fuori dal gruppo Dunque esegue di nuovo un turn phase e si unisce a Stars Stable capitanata da Mayu Iwatani Siamo nel 2020 e fa il suo debutto in Stardom Mina Shirakawa dove insieme a Tannakano e Unagi Sayaka formano il team Cosmic Angels Durante questi anni passati nella stessa stable Tannakano e Mina Shirakawa arrivano a vincere diversi titoli tra cui gli Artist of Stardom Titles Con l'arrivo di Natsu poi nelle Cosmic Angels a metà del 2022 qualcosa all'interno del gruppo si rompe e a fine 2022 Mina Shirakawa al ritorno dall'infortunio crea il Club Venus un sottogruppo di Cosmic Angels insieme a Mariah May e Xayah Brookside Poco tempo dopo per l'esattezza il 15 aprile 2023 Mina Shirakawa comunica a Tannakano che d'ora in poi lei non farà più parte delle Cosmic Angels e che dunque il Club Venus diventerà un gruppo indipendente Qualche settimana più tardi il 23 aprile 2023 a All-Star Grand Queendom Mina Shirakawa batte Saya Kamitani e diventa la 17esima Wonder of Stardom Champion mentre nel main event dello stesso show Tannakano batte Giulia e si laura World of Stardom Champion per la prima volta nella sua carriera questi risultati portano pochi giorni dopo ad una sfida inedita da parte della Shirakawa che sfida appunto Tannakano ad un title vs title match in quel di Fleshing Champions questo main event può davvero cambiare la Stardom come la conosciamo ma la domanda è chi uscirà dal pay per view come doppia campionessa? Io ovviamente vi invito a farmi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti intanto io penso che il risultato migliore sia un pareggio che possa permettere a Tannakano e Mina Shirakawa di continuare i loro regni anche dopo il pay per view hanno da poco entrambe vinto la cintura e privare una o l'altra di essa sarebbe un'ingiustizia Mina e Tam meritano di avere un lungo regno in modo da dimostrare anche ai più scettici che meritano di essere e di restare al top della federazione Mancano ormai pochi giorni dunque per scoprire il fatto delle due campionesse quello che è certo è che sarà un match che passerà comunque alla storia in qualunque modo andrà a finire come sempre vi invito a lasciare un like a condividere video con tutti a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella per non perdervi video futuri dal vostro amichevole e chirito di quartiere per oggi è tutto alla prossima matane